Triestina batte Vicenza 3 a 2. Di Giovanni porta in vantaggio la Triestina al diciassettesimo. Pareggia il Vicenza al trentesimo con Nicolini. Al quarantesimo gli ospiti passano addirittura in vantaggio con Rondon. Ma due calci di rigore permettono alla Triestina prima di pareggiare poi di vincere. In entrambe le occasioni ci ha pensato Iachini a battere Mattiazzo dagli undici metri. Avete visto la prima esecuzione ed ecco la seconda.